Good morning a tutti voi! Oggi chiudiamo, concludiamo il mese di maggio con la visitazione di Maria d'Elisabetta, quindi siamo nel Vangelo di Luca al capitolo primo, al versetto 39. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A te a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. La prima beatitudine del Vangelo è questa, beata te, benedetta tu, benedetta tu perché hai creduto. La prima beatitudine è la fede, la prima beatitudine di questa giornata per noi è la possibilità di credere e di dire il Signore fa dei miracoli, il Signore può fare grandi cose, può far crescere dentro di, può far crescere se stesso dentro di noi. Se noi lo accogliamo, se noi diciamo il nostro eccomi, se noi facciamo anche quello che è riuscita a vivere Maria andando a salutare la sua cugina Elisabetta. E Maria poi esclama questa grande gioia attraverso quel canto magnifico che è il magnificat. L'anima mia magnifica è il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio salvatore. Normalmente questo è il cantico che si fa durante i vespri, alla sera e forse sarebbe bello anche farlo al mattino, cioè ogni mattina provare ad alzarsi e dire all'anima mia magnifica il Signore. Il mio spirito esulta in Dio mio salvatore perché anche oggi, anche oggi la salvezza del Signore passa attraverso le circostanze della vita nelle quali io sono chiamato a vivere come Maria. Maria si alza subito, va dalla cugina Elisabetta, scusate, racconta questo mistero di un Dio che si fa piccolo e che è venuto ad abitare dentro lei. Dio viene ad abitare nella nostra vita, nei nostri grembi, facciamolo crescere. Anche oggi è un sussulto di gioia per questo, magnifica poi a tante parti ed è il sogno di un'umanità nuova, ma il sogno di un'umanità nuova ha rovesciato i pontetti dai troni, ha innalzato gli umili, passa attraverso di me e passa attraverso di te, attraverso la nostra accoglienza. Bene, le cose belle di questo weekend? Beh, c'è stato un weekend della pastorale giovanile a cui ho partecipato un pochino, solo il sabato, ma è sempre bello trovarsi tra i giovani, con i giovani e così verificare, progettare, camminare insieme semplicemente. Ecco, abbiamo vissuto l'ultimo gruppo della Cresima e poi insomma, come sempre, ogni domenica ci si ritrova per l'estate ragazzi, mancano solo 15 giorni, nonostante siamo partiti per tempo, in realtà siamo sempre poi in ritardo, però speriamo che in questi 15 giorni di lavorare alla grande perché sia un'estate bellissima e organizzata, preparata, responsabile per tutti i bimbi. Ale, buona giornata a voi!